Vivere e raccontare, puntata numero 175, sono le 17.33 del 10 novembre 2020. Vivere e raccontare il programma ideato da Gioacchino Norati e Augusto Zucchi per dare modo proprio agli autori di raccontare le proprie opere. Dagli studi di Aracne TV Chiadabuccini, in collegamento con noi da Roma, la sindonologa Emanuela Marinelli. La professoressa è autrice insieme a Marco Fasol del libro Gesù e la sindone che stiamo analizzando con una serie di appuntamenti. Il libro è stato pubblicato dalla RACN editrice nell'aprile 2020 e ha la prefazione di Angelo De Donatis, il cardinale vicario di Roma. Professoressa, ci siamo sempre di più addentrando in questo mistero della sindone. Oggi parliamo proprio della datazione, ma dal punto di vista scientifico, perché nella scorsa puntata abbiamo visto un po' le vicissitudini dei vari laboratori su questa datazione. Quindi oggi siamo proprio sulla puntata dedicata a una datazione, per quanto si può, scientifica, insomma, un approccio proprio scientifico. Sì, infatti la datazione radiocarbonica è un ottimo sistema di valutazione dell'età di un oggetto, di un oggetto chiaramente di origine organica, deve essere derivato da un animale o da una pianta. È un'ottima datazione se, ecco però, c'è una condizione molto importante, se questo oggetto non è stato successivamente alla morte dell'animale o della pianta, in questo caso parliamo della pianta di lino da cui è stata poi ricavata la stoffa della sindone, ecco, se non c'è stato un inquinamento, una contaminazione che non viene eliminata prima di affrontare il test. Quindi bisogna cercare solo il radiocarbonio che resta di quello che c'era al momento che la pianta è morta, perché durante la vita di un essere vivente c'è un equilibrio tra il radiocarbonio che arriva, che la pianta assorbe in qualche modo, prende dall'ambiente, e quello che decade, che va via. Ecco, detto in parole semplici, ma a un certo punto con la morte... Per di non addettere ai lavori, insomma. Ecco, esatto, esatto. Dopo la morte non c'è più il rifornimento, quindi lo scambio con l'ambiente è solo quello della perdita del radiocarbonio, quindi più anni passano, meno radiocarbonio troviamo. E dalla quantità che troviamo possiamo dedurre, sempre supponendo che sia solo quello dell'animale o della pianta originale, possiamo dedurre quanti anni sono passati dalla morte. È ovvio che se c'è un inquinamento che nell'oggetto ha portato altro radiocarbonio, quello falsa la datazione e ci sembra più giovane. Ecco, il dubbio per la sindone. Attualmente, recentemente, l'anno scorso, c'è stato il pronunciamento del professor William Thieser, che è il direttore del laboratorio per la radiodatazione di Ottawa in Canada. Allora, questo è un esperto, è proprio un professore che fa datazioni, quello è il suo lavoro. Ecco, lui ha detto che per la sindone bisogna stare attenti alla decontaminazione, perché la sindone è stata, per esempio, toccata da molte mani. Allora, il grasso, il sudore delle mani possono essersi legati alla stoffa in una maniera che poi non viene pulita, non si riesce a togliere tutto, perché le reazioni chimiche formano anche delle trasformazioni. Se io metto un acido su una stoffa per dire quella si brucia, non è che poi posso riportarla come era prima. Ecco, chi ha a che fare con le stoffe, parliamo anche semplicemente di una tovaglia, di un qualcosa che dobbiamo pulire. Noi donne sappiamo quanto è difficile, certe volte, far eliminare, riuscire a eliminare delle macchie. Ci sono libri, manuali addirittura, per cercare di levare queste macchie. Macchie di materiale, insomma, di componenti che poi compromettono proprio il tessuto. Esatto, esatto. È proprio questo il problema grosso. Se l'interazione con qualcosa ha provocato, possiamo dire, un danno permanente, cioè una cosa che non si può riportare semplicemente con la pulizia. Questo è l'avviso e la messa in guardia che avevano fatto già all'epoca della datazione e gli archeologi che si interessavano proprio del problema perché è capitato altre volte che ci sono state delle datazioni alterate da qualche fattore. Per esempio, c'è una mummia conservata al Museo di Manchester dei cui bende hanno dato un risultato di 800, 1000 anni più giovani delle ossa. Questo non è possibile. Quindi quelle bende hanno avuto dei trattamenti, magari per la mummificazione, dei trattamenti particolari che gli operatori, gli scienziati che dovevano pulire il campione non sono riusciti a pulire del tutto. È stato fatto tutto un lavoro per poi ridatare quelle bende e la seconda volta è venuta la differenza con le ossa è raccorciata, circa 350 anni, ma ancora non andava bene perché le bende e le ossa dovevano avere la stessa data. Quindi quando ci sono questo tipo di problemi, non è che uno allora dice vabbè, allora la mummia vuol dire che è rimasta nuda per tanti anni e l'hanno fasciata dopo. Insomma, ci vuole una spiegazione logica. Quindi nel caso della Sindone i primi a mettersi in allarme, proprio subito dopo la datazione, furono gli statistici. Perché? Perché quando fu pubblicato il lavoro sulla rivista Nature, e questo fu pubblicato il 16 febbraio dell'89, quindi pochi mesi dopo la datazione, dopo l'annuncio della datazione, ci fu un importante congresso a Parigi e lì hanno cominciato proprio le proteste degli statistici. Perché? Perché dai dati pubblicati si vedeva che c'era una disomogeneità nei campioni. Cioè un campioncino di tre centimetri diviso in tre parti non può avere una differenza, come si è visto invece nel caso di questa datazione, di 150 anni. Sono tanti per tre centimetri. La Sindone è lunga oltre quattro metri. A questo punto non abbiamo più certezze di quello che può esserci da una parte all'altra. andava fatta una campionatura su tutta la superficie della Sindone, più omogenea. Invece è stato preso il campione in un unico punto. E allora che cosa hanno fatto? Gli statistici che nel corso degli anni si sono avvicendati a fare delle richieste. Hanno fatto pubblicazioni da un lato e dall'altro chiedevano i dati grezzi, cioè i dati primari delle singole misurazioni avvenute nei laboratori. perché nella pubblicazione c'erano solo i dati già lavorati e quindi ci dovevamo accontentare del prodotto finito. Ma gli statistici non si accontentavano. E hanno chiesto, hanno chiesto, sono passati quasi 30 anni senza avere soddisfazione. A un certo punto nel 2017 un giovane ricercatore francese, Tristan Casabianca, ha fatto un'azione legale. Ha detto, con le buone o con le cattive, questi dati ce li devono dare. E con le cattive sono venuti fuori. I dati sono stati forniti gentilmente dal British Museum. 700 pagine di materiale. Allora, insieme a Tristan Casabianca abbiamo collaborato a questo progetto, li abbiamo sottoposti a due statistici dell'Università di Catania. il professor Benedetto Torrisi e il dottor Giuseppe Pernagallo, che li hanno elaborati. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che è confermato in maniera molto preoccupante questo stato di disomogeneità. Cioè, ancora di più, con i dati primari, con i dati grezzi, si vede che i campioni non erano omogenei. Quindi non potevano essere dichiarati rappresentativi dell'intero oggetto. Ecco, la pubblicazione su Nature è stata così sconfessata dall'analisi statistica dei risultati. Quei risultati non sono buoni. Allora poi però c'è da chiedersi e perché non sono buoni? Che cosa è successo in quell'angolo? Qui parliamo solo dell'angolo. Dobbiamo tenere presente tutta la sindone. Perché? Tutta la sindone è stata intanto immersa, diciamo, in un'atmosfera di fumo di candele, respiro dei fedeli, è stata toccata. È passata per tanti territori. Esatto, è passata per tanti territori e per tanti metodi di conservazione. E poi nessuno, diciamo, adatto ai criteri moderni. basti pensare che fino al 2000, al 2000, parliamo di vent'anni fa, la sindone era tenuta arrotolata su un bastone come un vecchio tappeto. Era una cosa scandalosa per i conservatori di tessili antichi. Finalmente, nel 2000, è stata poi distesa in una teca super tecnologica di cui abbiamo già parlato. Adesso è conservata in maniera magnifica. Sì, ma sono 20 anni che è conservata bene. Tutti gli anni precedenti. Ecco, quindi, questa serie di perplessità nasce oltretutto dal fatto che tutta la sindone allora è stata anche in un incendio gravissimo nel 1532 in una cassetta d'argento che internamente era di legno. Quindi si è bruciato il legno. Si è in qualche modo formata anche una presenza di atmosfera con argento e l'argento fa da catalizzatore, cioè favorisce, un processo chimico che si chiama carbossilazione. Quindi la cellulosa può essersi arricchita di carbonio e quindi anche di radiocarbonio, fumi in questa cassetta chiusa che era una specie di forno in cui si stava surriscaldando questa stoffa. E anche questo è un danno permanente. E poi i funghi e i batteri. Quelli come la mummia sono stati trovati sulla sindone. In quell'angolo sono stati trovati i funghi e quei batteri che formano una patina che non si rimuove con i metodi di pulizia che furono usati allora. Altro problema enorme è quello dei rammendi. La sindone è stata rammendata e rinforzata più volte in particolare dalle suore nel 1534, due anni dopo l'incendio. E in quell'angolo sono stati trovati delle fibrille, dei filamenti di cotone, di cotone colorato. Quindi la prova che c'è stato un rammendo perché questo cotone era anche in qualche modo incollato con gomma arabica. E in quella zona è stato trovato anche amido. Quindi la sindone è stata anche in quella parte inamidata. E questo è un altro elemento di chi faceva il rammendo e poi inamidata e stirata la sindone per metterla tutta bella di nuovo in esposizione. Noi dobbiamo considerare che cosa è successo appunto nel corso del tempo. Mancano due minuti alla fine di questo nostro quinto appuntamento. Quindi insomma ci sta veramente coinvolgendo e affascinando. Quindi questa datazione, questo approccio scientifico con la datazione dove ci porta considerate tutte queste condizioni che lei ci ha spiegato? Allora quella datazione fatta nell'88 non può essere considerata valida. Fra l'altro qualche fisico ha anche avanzato il problema della possibile radiazione della resurrezione avvenuta dentro il lenzuolo e qui entriamo in un campo molto delicato chiaramente opinabile perché non è un campo scientifico però bisogna anche considerare quello. D'altra parte bisogna anche dire che ci sono state tre datazioni alternative fatte dall'equipe del professor Giulio Fanti presso l'Università di Padova una datazione due datazioni chimiche una fatta con la spettroscopia vibrazionale FTIR e un'altra con Raman e poi una terza datazione col metodo di trazione cioè con la resistenza che può avere una fibrilla è chiaro che le fibrille più sono vecchie e più sono fragili ecco la conclusione qual è che con questi metodi alternativi è risultato che la Sindone è dell'epoca di Cristo quindi siamo completamente lontani da quella datazione del radiocarbonio che a questo punto non possiamo per tanti motivi ritenere valida. Professoressa grazie ancora una volta per questo straordinario viaggio che ci sta facendo compiere nella storia e nelle vicende e nelle vicissitudini anche della Sindone. noi insomma ci diamo appuntamento quindi alla prossima puntata perché ormai ci stiamo veramente addentrando in questa storia straordinaria con un altro aspetto della Sindone ricordiamo Gesù è la Sindone della sindonologa Emanuela Marinelli e Marco Fasol alla prossima professoressa Grazie a tutti